13 ottobre 1972. Un aereo preso a noleggio da una squadra di reg di Uruguayana diretta in Cile precipita sulle Ande. A bordo c'erano 45 persone, 5 membri dell'equipaggio, 19 regbisti e poi amici, parenti e altri passeggeri che erano stati convinti a prendere quel volo così da ammortizzarne i costi. La maggior parte di loro sopravvivi all'impatto, ma solo 16 passeggeri restarono in vita fino a quando, poco prima di Natale di quell'anno, vennero ritrovati dai soccorsi. In Uruguay quella vicenda è nota in due modi, il miracolo e la tragedia delle Ande, sia per le 29 persone che morirono dopo la caduta e per il modo in cui i 16 di loro si salvarono. Per sopravvivere in mezzo alla cordigliera delle Ande, a quasi 4000 metri di altezza e con temperature che di notte scendevano sotto zero, i sopravvissuti superarono difficoltà di ogni genere e due di loro fecero un viaggio di 10 giorni scalando una montagna di 4650 metri mai scalata prima per cercare aiuto. Una delle cose più discusse del film è che per sopravvivere i sopravvissuti dovettero nutrirsi della carne di alcuni cadaveri. I regbisti giocavano per l'Old Christians Club, una squadra fondata nel 1962 a Montevideo, con forti legami con l'Irlanda e il Cattolicesimo. Il volo charter serviva alla squadra, tra le più forti in Uruguay, per andare a giocare una partita contro una squadra di Santiago del Cile, una sorta di replica di quanto già era stato fatto un anno prima. Il volo costò alla squadra 1600 dollari statunitensi e oltre ad amici e familiari dei regbisti sull'aereo c'erano anche persone che andavano in Cile per fare altro. Una signora, per esempio, era lì perché stava andando al matrimonio della figlia che doveva sposarsi in Cile con un esiliato politico. L'aereo aveva 4 anni e meno di 800 ore di volo. Partì il 12 ottobre dall'Uruguay e a causa del maltempo si fermò a Mendoza, in Argentina, dove equipaggio e passeggeri trascorsero la notte. Ripartì nel pomeriggio del 13 ottobre, diretto verso Santiago del Cile, sorvolando le ande. Le condizioni meteorologiche avverse e una serie di errori di calcolo da parte dei piloti, che dovettero guidare l'aereo praticamente senza visibilità, crearono le condizioni ideali per l'incidente. Contribuì anche il fatto che il margine tra l'altitudine massima raggiungibile da quel tipo di aereo e l'altezza di certe vette era scarso, non potendo andare troppo in alto, l'aereo finì per volare troppo basso e quindi schiantarsi. L'impatto avvenne a oltre 4.000 metri di altezza e l'aereo perse ali e coda, nonché alcune persone che si trovavano a bordo. Quel che restava della fusoliera scivolò lungo un ghiacciaio per fermarsi a circa 3.570 metri d'altezza, in un territorio che faceva parte dell'Argentina, a ovest c'era il Cile e tutto attorno c'erano le ande. Secondo i desoconti dei superstiti, più di dieci persone morirono o restarono disperse nei primi secondi dopo l'impatto e altre 5 morirono nei due giorni successivi. Tra i sopravvissuti molti avevano meno di 20 anni e nessuno aveva esperienza di alpinismo. Alcuni di loro, pensate, non avevano mai visto la neve. Si trovavano con pochissimi indumenti, una scarsa protezione dal freddo e nessuna informazione su dove si trovassero. Erano in un luogo così remoto che nemmeno il ghiacciaio dove erano finiti aveva un nome. I superstiti non sapevano nemmeno che a circa 20 km da lì c'era un centro termale abbandonato, con annesso albergo, un posto sicuramente migliore della fusoliera dove dovettero stare nei giorni successivi all'impatto. Con il passare dei giorni si organizzarono in vari modi e ad emergere come leader fu soprattutto Marcelo Perez, il capitano della squadra. Per bere trovarono modi per sciogliere la neve, per mangiare disponevano, come scritto nel libro pubblicato dopo il loro salvataggio, di otto tavolette di cioccolata, cinque tavolette di torrone, alcune caramelle sparpagliate sul pavimento della cabina, di pochi datteri e prugne secche, di un pacchetto di cracker salati, di due barattoli di vongole, di un barattolo di mandorle salate e di tre basetti di marmellata. Attorno a loro, tra la neve e il ghiaccio, non c'era nulla da poter mangiare. Fu per questo che decisero di nutrirsi con la carne di alcuni cadaveri che neve e ghiaccio avevano conservato. La decisione fu sofferta, fu molto discussa e alcuni inizialmente si rifiutarono di farlo, ma secondo i resoconti alla fine tutti finirono per nutrirsi. I soccorritori intanto stavano avendo grandi problemi, perché prima di cadere l'aereo si era allontanato parecchie decine di chilometri dalla rotta prevista e poi perché era pressoché impossibile trovare fra la neve e il ghiaccio una fusoliera bianca. Dopo due settimane le persone ancora in vita erano 27, ma otto di loro, compreso Marcello Perez, morirono a fine ottobre a causa di una valanga che si riversò sull'abitacolo della cabina. Nella valanga morì anche Liliana Navarro, l'ultima donna rimasta nel gruppo e la moglie del più anziano tra i superstiti. Altre due persone morirono nelle settimane successive, l'11 dicembre e a circa 60 giorni dall'impatto le persone sopravvissute si ridussero a 16. Intanto le autorità avevano ormai sospeso le ricerche aeree e i superstiti vennero a conoscenza della cosa perché nel frattempo erano riusciti a mettere in funzione una radio. Sapendo che nessuno li stava più cercando, dopo la valanga e consapevoli del fatto che col passare del tempo il clima si sarebbe fatto meno rigido, i superstiti organizzarono alcune missioni di esplorazione nelle vicinanze, rese però difficilissime dalla molta neve, dal grande freddo e dal fatto che molti di loro fossero feriti o malati e tutti sempre più debilitati. Provarono anche senza riuscirci a riparare una ricetrasmittente. Tre membri furono scelti infine per provare una missione decisiva, una marcia di più giorni verso la direzione dove i superstiti pensavano ci potesse essere qualcuno. Dopo un paio di giorni, vedendo che la marcia sarebbe durata ben più del previsto, i tre si accordarono così da far durare di più le provviste affinché uno tornasse indietro. A tentare la marcia arrestarono quindi Nando Parrado, 22enne regvista e studente di agronomia e il diciannovenne Roberto Canessa, anche lui regvista e uno dei due studenti di medicina a bordo. Insieme scalarono e furono probabilmente i primi a farlo una montagna di 4.650 metri e in dieci giorni percorsero oltre 60 chilometri. Avevano attrezzature scarsissime e indumenti improvvisati, non avevano mappe né una bussola e gran parte delle cose che credevano di sapere sulla loro posizione e direzione erano sbagliate. Litigarono anche su quella che Canessa credeva potesse essere una strada e che Parrado sosteneva invece non lo fosse. Lo era una strada e se l'avessero presa avrebbero quasi di certo trovato prima qualche soccorritore, ma andarono invece in un'altra direzione. Arrivarono comunque in una vallata e seguendo il fiume che scorreva trovarono mucche al pascolo e dopo un paio di giorni un mandriano li soccorse. Dopo i primi soccorsi arrivarono anche alcuni militari cileni, quali fecero poi arrivare un elicottero. Parrado si offrì di salirci e ripercorrendo in volo in senso inverso la strada fatta a piedi con Canessa condusse i soccorritori al luogo in cui c'era la fusoliera con i superstiti. Alcuni furono portati in salvo il 22 dicembre, altri il 23 dopo una notte che alcuni soccorritori scelsero di trascorrere al loro fianco. Erano passati 72 giorni dal giorno dell'incidente. La storia dei superstiti fu ovviamente anche al centro di grandi discussioni internazionali e sebbene all'inizio i 16 sopravvissuti evitarono di parlarne. In breve tempo arrivarono anche i primi articoli sul fatto che per sopravvivere avessero fatto ricorso al cannibalismo. Circolarono anche delle immagini su quel che rimaneva di alcuni cadaveri. In realtà, come specificò Canessa, alcuni anni dopo preferivano parlare di antropofagia, perché l'espressione cannibalismo viene usata nei casi in cui si decide di uccidere per mangiare, cosa che loro dissero di non aver mai fatto. Disse successivamente Canessa, Le persone dicono sei sopravvissuto mangiando altre persone, ma per me non fu la cosa più difficile. Penso che riuscimmo a sopravvivere perché eravamo una squadra e perché riuscimmo ad andarcene da quel ghiacciaio. La notte dopo la valanga, quando sentivamo la montagna muoversi ed eravamo terrorizzati di essere sepolti vivi nella neve, fu peggiore del tormento dovuto al mangiare carne umana. I sopravvissuti parlarono per la prima volta di antropofagia in una conferenza stampa organizzata il 28 dicembre e qualche anno dopo uno scrittore britannico pubblicò un libro con alcune interviste ai sopravvissuti. Il libro, che nella sua prima versione italiana è intitolato Tabù e che tratta apertamente quel che portò alla decisione dell'antropofagia e quel che essa comportò, è considerato un crudo e oggettivo resuconto della vicenda ed è alla base del film Alive, sopravvissuti, del 1993. Parrado poi diventò pilota automobilistico mentre Canessa decise di continuare a salvare vite umane facendo il cardiologo pediatrico. Ancora oggi rivedendo questi film ci si può chiedere se il cannibalismo sia legale o meno. È difficile trovare leggi uruguayane che menzionino specificatamente il cannibalismo, semmai ce ne sono. In altri paesi però come la Germania o il Regno Unito il cannibalismo non è espressamente illegale. Ebbene sì. In realtà che i sopravvissuti raccontati nella società della neve siano mai stati accusati di crimini come cannibalismo è una bufala. È evidente che anche le autorità e il governo dell'Uruguay capirono la situazione e il contesto nel quale dovettero muoversi i sopravvissuti. Paradossalmente il punto è più religioso se vogliamo, uno dei motivi per cui i sopravvissuti nel film lottano con l'idea di mangiare coloro che sono morti nella società della neve è perché si chiedono se l'atto sia peccaminoso e se Dio li perdonerà. Non molto tempo dopo che i sopravvissuti furono salvati, due professori di teologia cattolici si pronunciarono in difesa del cannibalismo dei sopravvissuti. Hanno spiegato che mentre è importante nella loro fede mostrare rispetto per i morti e mangiare carne umana sarebbe quasi sempre considerato una violazione di questo, il cannibalismo è giustificato se non esiste un'alternativa fattibile. È anche interessante considerare le azioni dei sopravvissuti attraverso la lente della comunione, conosciuta anche come Eucaristia, l'atto di ricevere il corpo e il sangue di Gesù Cristo. Quando il pubblico scoprì per la prima volta che i sopravvissuti avevano mangiato la carne dei loro compagni, ci furono una serie di reazioni negative. Nella città natale della squadra di rugby in Montevideo, in Uruguay, si sparse la voce che avessero ucciso alcuni compagni per nutrirsi. Queste accuse hanno costretto dei sopravvissuti a prendere la parola e a difendersi. Questo ci ha dato fastidio perché non era vero, ha sollevato dubbi nelle famiglie dei ragazzi morti. Alcune riviste dicevano che eravamo cannibali. Non è vero, perché essere un cannibale significa uccidere un'altra persona perché ti piace mangiare carne umana. Non l'abbiamo fatto, tanto che alcuni hanno anche spiegato che sarebbero stati onorati se i loro amici avessero usato il loro corpo per sopravvivere, se fossero morti. Ma quali sono gli effetti della carne umana sull'uomo? È ovvio che se ci si nutre di carne umana per lunghi periodi di tempo, gli effetti ci sono. L'organismo diventerebbe vulnerabile a tutta una serie di agenti patogeni trasmessi per via ematica. Alcuni di questi sono gravi, tipo il morbo della mucca pazza, il curu, una malattia degenerativa del cervello, l'encefalopatia spongiforme, simile al morbo di Alzheimer, che fondamentalmente trasforma il tuo cervello in una spugna. E questo è ciò che ti accade se mangi la carne di un essere umano, specialmente quella cruda. Sapore a parte, quindi, nutrirsi dei propri simili per un lungo periodo comporta dei pericolosi svantaggi. Nel 1955 un medico estone scoprì una misteriosa malattia infettiva in Nuova Guinea, dove l'antropofagia era ancora praticata a scopo rituale. Molti indigeni si ammalavano con sintomi come la perdita di equilibrio, difficoltà nei movimenti, tremori. Presto si accorse che la malattia era dovuta all'usanza di cibarsi del cervello dei cadaveri. A essere contagiati erano soprattutto donne e bambini, mentre gli uomini, che dei morti mangiavano solo i muscoli, erano risparmiati. L'infezione, simile al morbo della mucca pazza, appunto, è dovuta a una proteina che, resistendo all'acidità gastrica, viene trasferita da una persona all'altra per via alimentare. Nel 1957, però, il rito fu vietato e la malattia scopparne. Insomma, non c'è dubbio che la società della neve racconti una storia di cui si continua a discutere ancora oggi e che abbia numerose ripercussioni morali ed etiche. Fatemi sapere cosa ne pensate, se avete visto il film, se vi è piaciuto e se avete visto anche Alive, sopravvissuti del 1993. Io vi consiglio di iscrivervi al nostro canale YouTube, Ciacchiazione, seguiteci su Facebook e Instagram, dove tutti i giorni raccontiamo storie, aneddoti sul cinema e le serie TV. Al prossimo video!